ci siamo faglielo fare a Arnatovic stanotte mi sono rigirato talmente tante volte nel letto che mia moglie è andata a dormire in camera dei bimbi è un continuo mi fa a un certo punto vinci vince si vince non ti preoccupare era sfinita perché non l'ho fatta dormire per nulla certo punto l'ho vista e si è alzata e è andata in camera dei bimbi è una partita io sento tantissimo perché essendo nato a Firenze io sono nato con l'odio della Juventus io purtroppo ho avuto modo di vedere tutto lo schifo della Juventus tutto quello eh che hanno combinato sporcando il calcio italiano loro che stanno uscendo i vari articoli degli interisti che postano sui vari social articoli vecchi dove dicevano che l'arbitro è l'alibi dei perdenti quando noi ci lamentavamo degli arbitri quindi è una sfida è una sfida clamorosa questa e viene ed arriva in un periodo molto molto particolare perché l'Inter ha un bel tour de force davanti l'Inter darebbe un ottimo segnale un grande segnale a questo campionato dove fino ad oggi ha strameritato il primo posto perché ragazzi a parte i cinesi che io non lo so dove è il cinese è inutile giusto e sei stato dai cinesi io non sono stato dai cinesi non lo so dove è il cinese ma a parte a parte lui a parte l'orientale e voglio sottolineare una cosa lo so che è rischioso affrontare la seconda parte della stagione con solo due attaccanti tra virgolette sani lo so benissimo ma era inutile aspettarsi cose che non potevano accadere l'ho detto io non sono un insider ma io ho ragionato ci ho ragionato sapendo che non c'era nessun passaggio vuote sapevo in automatico non sarebbe arrivato nessun attaccante anche perché secondo me loro dall'errore che i sedo hanno imparato molto è inutile prendere un giocatore tanto per in più lo ripeto e questo lo dissi nella famosa live che purtroppo è stata cancellata per copyright dove mi fu chiesto che attaccante prenderessi giuse io dissi prima di prendere un attaccante per le qualità calcisti e prenderei uno che possa inserirsi bene in questo gruppo di armonia uno che non sfaldi il gruppo questo dissi perché il gruppo è fondamentale l'anno scorso c'era gente si mandava a quel paese ma di cosa stai ragionando te lo ricordi o no che l'anno scorso c'era gente si mandava al paese figlio di p di ua figlio di p di la quest'anno queste cose non esistono più gruppo il gruppo è d'acciaio poi da lì a dire che ci sono eh quattordici quindici giocatori su cui poter contare quello è un altro discorso io l'ho sempre detto ma era inutile aspettarsi chi a gennaio chi volevi holland i riccardi che piglia otto milioni chi volevi a gennaio chi ma poi gli si muove a gennaio non sempre si muovono giocatori o me stanco vici passato pandep quando fu preso dalla Lazio e via discorrendo cioè a gennaio chi vuoi trovare ormai c'è questo gruppo si va avanti con questo gruppo lo sappiamo tutti e eh che ci sono comunque eh che questo che che questa rosa non è proprio completa ma è anche vero che nessuna rosa di serie A è completa al cento per cento poi altri hanno fatto mercato noi non l'abbiamo fatto ma se vogliamo essere cinici alla fine della fiera ad oggi l'Inter dall'inizio della stagione per quello che riguarda me ora ti dico una cosa quando io accendo la televisione perché allo stadio purtroppo ci posso andare una due volte l'anno se va bene perché con i bambini la famiglia e il lavoro e è un casino quando io c'era cioè il calcio è intrattenimento il calcio è spettacolo e io quest'anno ragazzi quasi come non mai molto più dell'anno scorso quando guardo l'Inter mi diverto ed io è questo che cerco dal calcio divertimento perché deve essere anche un divertimento vincere non è l'unica cosa che conta poi è normale ci fa piacere tutti i vincere soprattutto delle partite tipo quella di stasera però quando tu accendi la televisione quando tu vai allo stadio che magari ti sei fatto quattrocento cinquecento chilometri e hai speso ducento euro o trecento euro ti vuoi divertire io mi diverto a guardare l'Inter quindi non ho i denti avvenenato per per criticare come ho fatto a che è passato perché magari siamo quarti o quinti siamo primi gioca un grandissimo calcio e io questo l'ho sempre detto andate a riprendere i video di sei sette mesi fa io mi sento totalmente rappresentato da questa squadra non dal presidente io mi sento rappresentato da questa squadra di professionisti che scende in campo e da sempre tutto fino all'ultimo fino all'ultima goccia di sudore che ribatte colpo su colpo poi quelle lì che ci danno di ladri a noi bisogna ricordargli il rigore contro il Verona novantasettesimo un rigore a partita contro ma stasera c'è Maresca è meglio fidati se c'è Maresca stasera l'è meglio perché non devono avere alibi non devono avere alibi poi a me piacerebbe vincere con un rigore a novantasettesimo inesistente te l'ho detto perché tanto per come la vedo io fino a questo punto della stagione abbiamo già dimostrato di essere molto più forti sia di noi sia di quella squadretta stava perdendo i frosinone fino a 20 minuti alla fine ma di cosa stai ragionando come la fronti stasera la partita bisogna stare molto attenti alle ripartenze fidati perché loro difendono molto ma molto bene in aria e sottoporta è vero che questa è la miglior è una delle migliori coppie delle coppie d'attacco d'Europa e d'Italia miglior attacco miglior difesa quindi cosa gli vuoi dire a una squadra miglior attacco miglior difesa non gli puoi rompere i coglioni giusto però in queste partite qui tipo come quella di stasera bisogna essere molto cinici davanti non bisogna sbagliare nulla ragazzi è quello che bisogna fare stasera è quello a cui dobbiamo puntare quello di essere cinici non bisogna essere spreoni perché in queste partite poi la paghi quindi capitalizzare al meglio le occasioni che creeremo perché noi creiamo sempre occasioni da gol durante le partite io non l'ho mai vista l'inter nell'ultimo anno e mezzo due non creare occasioni da gol questa è una squadra che scende in campo e che la re ha sempre occasione da gol ciao inter vado a fare una passeggiata tipicione